guarda lui come usa la tecnica a parte questo che vedi appoggia e poi salta fuori guarda dove la fa ma anche se non la sposti vedi? usa la voler non fermarti eh Ste non fermarti dietro il culo e vai e il peso però te il peso era tutto di là eh capitelo troppo non usano il peso loro devono usare il sasso anche lì guarda Tony eh guarda Tony si c'è la retro te va spampi gliel'hai detto che il bottone lì non serve per metterla retro eh non serve per cambiare la mappa dai devi fare dei coglioni io te le spazzo mi ha fatto quasi paura non puoi girare la mica devi girare qua non vuoi girare la non vuoi girare la non vuoi girare la cosa vuoi girare la e poi vedi come stacca due volte ve lo vedi no ma se hai sentito il gas E' sì, è Peso, peso Peso Se gli dava faceva scolpito il sasso, cazzo, sei matto Se gli davi lì facevi sul nome Non è questa l'ora che dovevamo uscire Non si svegliava Non si svegliava